Sì, sì, punti per soprattutto per la classifica che questi mesi forse sono un po' mancati, anche perché ho giocato pochi tornei. Ora ricomincio da qui, da Fratta, e oggi è stata una partita non semplice, il primo set molto combattuto, il secondo forse il mio avversario era un po' stanco e fortunatamente l'ho portato a casa in due set, è finita bene. Ultimamente, sono stato un po' in inverno un po' di meno e adesso in ultimo mesetto mi sto allenando un po' meglio, spero di far più punti possibili e cercare di salire di classifica sicuramente. Sì, Serie C ci abbiamo provato, alla fine siamo tutti ragazzi del circo, del vivaio, ci divertiamo e abbiamo passato abbastanza facilmente il girone anche, siamo stati anche forse un po' sfortunati col sorteggio ma comunque ci siamo divertiti, è andata bene. Comunque, come primo anno. È più che una famiglia, è una casa ormai, quindi 12 anni che gioco lì è una casa, veramente. Forse anche prima casa, è più che seconda. Passo più tempo lì che a casa.